Questa sera sarà una diretta abbastanza breve, ma densa, diciamo così. Cercheremo di condensare quello che vogliamo dirvi in una mezz'oretta. E come vedete dal titolo qui sotto parleremo di, da dire al fare, quindi abbiamo dato questa diretta, questo titolo è la diretta, quattro step per integrare teorie e pratiche per raggiungere gli obiettivi di business. Perché questa diretta? Perché vediamo che spesso molti si perdono in mille corsi teorici, ma poi fanno fatica a passare alla pratica, per cui vorremmo un attimo dare alcuni consigli e poi farvi conoscere quello che abbiamo già anticipato la scorsa settimana e che potrebbe essere, secondo noi, un programma molto interessante per tutti gli imparitori e i professionisti che vogliono lanciare o far crescere la propria idea di business online. Noi siamo Fabio e Luca Facci, ci occupiamo di pay per click, quindi campagne pubblicitarie online. Penso che se tu sia qui e stia vedendo questo video mi conosca, anche perché siamo live nel mio profilo, per cui è normale che sia così. Sì, vediamo se c'è già qualcuno. Ciao Lorenza. Ok, allora aspettiamo al secondo. Siete tanti stasera. Ciao a tutti, mi fa molto piacere avervi qui. Stiamo testando diversi orari. Allora abbiamo provato alle 13, alle 21. Alle 13 mi è piaciuto perché c'era molta gente, c'era molta partecipazione. Alle 21 un po' meno, vediamo se le 18, vediamo com'è le 18. Intanto finché si connettono faccio qualche aggiornamento, Fabio. Ultimamente siamo molto contenti perché ci avete contattato in tanti. Abbiamo visto che non tutti possono entrare nel servizio standard performance per PC e per questo abbiamo lanciato Face to Face, scusate, che tra poco vedremo nel dettaglio, lo spiegheremo bene. Questa settimana abbiamo fatto una bellissima cosa, vero Fabio? Abbiamo fatto il mastermind interno di performance. E proprio ieri pomeriggio il nostro team, Davide, Alessia, Alessia di nuovo, abbiamo due Alessia, hanno contribuito a rendere ancora più speciale il programma Face to Face. Quindi abbiamo pensato a varie cose da metterci dentro per migliorarlo. Loro sono carichi, sono disponibili e saranno anche loro i vostri coach, se volete entrare. Quindi è venuto a fare, secondo me, una bella cosetta. Adesso abbiamo già dei candidati, diversi candidati. Non abbiamo raggiunto il numero extra, quindi non ci sono ancora per adesso tagliati fuori, però chiaramente il numero è limitato, perché essendo che ci saranno delle consulenze faccia a faccia, non abbiamo il tempo infinito, diciamo. Quindi ci sarà una selezione di candidati. Comunque questo è stato quello che è successo questa settimana e mi fa molto piacere se siete qui con noi stasera. Vediamo un po'. Sì, stasera parleremo proprio di questo, quindi spiegheremo bene il contenuto di Face to Face, di questa piattaforma, di questa idea che abbiamo avuto. e vi inserisco intanto nei commenti... Ciao Nadia, intanto. Ciao Nadia. E vi inserisco qui il link per candidarsi gratuitamente, senza impegno, quindi è solo un segnale che vi interessa il programma e le candidature sono aperte fino a domani sera, poi quindi da domani sera, da sabato, a chi si è candidato invieremo poi le informazioni per poter procedere. Esatto. Candidati. Da domani questa pagina sparirà e riceverete un'email con tutti i dettagli di quella che è la proposta per la piattaforma. Sì, quindi stasera vedremo, prima di tutto, vedremo i quattro punti che secondo noi sono interessanti da seguire per mettere in pratica poi le teorie che si apprendono nei corsi per raggiungere proprio gli obiettivi di business. Dopodiché andremo a vedere proprio in base a questo, in base ai concetti che esprimiamo nella prima parte della diretta, andremo a vedere perché questa piattaforma ti può aiutare nei quattro step che sono necessari per studiare e per applicare le strategie per crescere online con il proprio business. Quindi direi che possiamo partire, visto che abbiamo detto che teneremo la diretta abbastanza corta. Io condivido lo schermo. Facciamo così. Mi teniamo qui una minorezza. Fabio ha preparato. Ok. Allora, Luca ti lascio lì, così puoi parlare anche tu. E quindi parleremo di, da dire al fare, quattro step per integrare teorie e pratiche per raggiungere i propri obiettivi di business. Noi siamo Luca e Fabio Facin, siamo fondatori di Facin International Consulting e Performance PPC. Performance PPC è proprio il servizio con il quale gestiamo le campagne pay per click in Google, YouTube, Facebook, Instagram, insomma gestiamo tutto quello che è, tutti i canali di advertising online e li gestiamo per grandi aziende o anche per piccole e medie imprese che vogliono crescere, quindi con un servizio di consulenza o formazione oppure full outsourcing. Quattro step, quindi, per applicare, per studiare e per applicare le nozioni che si apprendono nella teoria. Il primo step che ho voluto inserire è il capire. Con capire cosa intendo e capire su cosa focalizzarsi, quindi capire che cosa studiare. Perché spesso si perdono mesi o anni a studiare cose che poi non servono effettivamente al proprio business. Quindi qui oggi parliamo di business, non parliamo di crescita personale o di altri ambiti, ma parliamo di come studiare e come applicare nozioni per aumentare i risultati online per il proprio business. Quindi il primo punto è capire che cosa serve studiare in questa fase del proprio business, perché ogni business ha diverse fasi, ogni fase necessita di nozioni diverse. Quindi, prima di tutto, non perdere tempo a studiare cose che non servono nella fase in cui ti trovi, ma capire dove focalizzarsi, in quali ambiti migliorare. Luca, qualcosa da dire a riguardo? Beh, questi suggerimenti qua li ha tirati fuori Fabio. Io sono qui per confermarli o smentire. Il primo lo confermo perché io ho studiato per anni cose che magari non erano utilissime. Poi è vero che poi ti torna tutto utile, no? A lungo termine. Però è vero anche che il tempo è limitato, quindi conviene concentrarsi su quello che serve. Tantissimi ci scrivono voglio partire con una professione online, come posso fare? E non sanno da dove iniziare, non sanno che cosa scegliere soprattutto. E quindi diventa importante capire dove mettere l'energia. Cioè, se voi adesso iniziate a fare un corso su come investire in borsa, ok? E invece siete ancora nella fase in cui dovete iniziare il vostro primo business. Magari guadagnate pochissimo, non avanzate niente. A fine mese è inutile che imparate a investire in borsa, ok? Bene, per il lungo termine servirà. Ma la cosa, la prima cosa che dovete imparare è che dovete creare un prodotto o servizio che serva a un mercato e quindi proporlo tramite, per esempio, l'online. Uno degli esempi. E quindi capire che cosa studiare è stata la cosa più importante. Fabio, quando è stato il momento, mi ha dato i suoi corsi da studiare e con quelli io ho iniziato a lavorare con lui. Quindi abbiamo iniziato a fare le nostre campagne online e nel giro di sei mesi, con i corsi giusti, sono riuscito a diventare molto competente anche tecnicamente in quella parte dove io arrivavo dall'ambiente manageriale. E non solo studiare, adesso lo vedremo. Potremmo prendere proprio il tuo esempio come caso studio? Ecco, perché come vedremo dopo nei quattro punti non serve solamente studiare, serve anche applicare, ma poi serve anche qualcos'altro. Ah, attenzione, alla fine, diciamo alla fine. E quindi, sì, corretto, corretto quello che dici. E inoltre, intanto saluto Mariana, Giovanni, Davide, tutti quelli che ci stanno seguendo, Lorenzo, Eugenio. E quindi è importante anche sottolineare come sì, dovrebbe, ci si dovrebbe concentrare in modo focalizzato per diverso tempo solamente su un'area, no? Anche se si vuole migliorare quell'area in particolare. Oppure su un business. Se si hanno diverse idee, è difficile far crescere più business contemporaneamente. perché per crescere un business ci si deve dedicare molte energie e bisogna essere focalizzati, ossessionati da quel business. Infatti, Luca, diciamo che anche tu, prendendo il tuo esempio, tu hai iniziato nel 2018, fine 2018, a studiare questi temi e però per due anni, sono due anni che ora sei focalizzato solamente su questo. Ora stiamo vedendo anche altre opportunità, ma per due anni sei stato completamente focalizzato al 100% su questo e questo ti ha permesso di di studiare, di capire appunto quali corsi fanno per te e di imparare al meglio tutte le nozioni. Sì, quindi seguite veramente i consigli che sentite non solo da noi, ma anche da altri formatori online, perché sono utili. Cioè, c'è chi dice, ok, ma perché voi insegnate a fare queste cose e non le fate voi? Beh, primo, perché noi già le facciamo. Secondo, perché già facendole andiamo bene, la nostra azienda sta crescendo molto, ma se aiutiamo più persone, come in questo momento stiamo aiutando decine di persone in contemporanea, chiaramente diamo più valore al mercato e torna di più anche a noi piuttosto che aiutarne uno alla volta. Quindi è un naturale passaggio. Esistono le fregature online, assolutamente, ma esistono anche molti personaggi che ti dicono le cose giuste. Noi ne abbiamo trovati tanti, quelli giusti, e ci hanno aiutato tanto. Cioè, seguire quello che ti dicono, capire che cosa studiare e in che ordine farlo, è quello che ha fatto la differenza anche da noi. Inoltre, c'è chi insegna motivazione, c'è chi insegna teoria, c'è chi insegna pratica, e non è che uno sia più giusto dell'altro. Serve tutto, l'importante è non rimanere sempre solo in uno. Cioè, anche essere focalizzati solo nella pratica non è ottimo per crescere. Serve la teoria, serve la motivazione e serve la pratica. Quindi, punto numero uno, capire su cosa focalizzarsi. Capire cosa serve studiare. Punto numero due, classico, è studiare. Ok? Quindi, scegliere, in base a quello che abbiamo capito, che è migliore per noi oggi per crescere, scegliere dove studiare e studiare veramente. Non acquistare i corsi, perché spesso lo vediamo, anche con i nostri corsi, come con i libri, io sono il primo, quindi non sto assolutamente additando nessuno, io sono il primo. Ho una libreria ricca di libri, ma spesso, magari ho letto solo la copertina, se va bene. Quindi, acquistare solamente un corso, un libro, non serve. Spesso c'è questo bias che... Hai la soddisfazione così, già comprandolo, hai fatto... Comprandolo ti sembra di essere migliorato, in qualche modo. Ok, dai, l'ho fatto il passo. In realtà poi serve studiare, ovviamente, altrimenti... altrimenti non si può, non si può apprendere nulla. Dopo di che... Esatto, capito. Dopo aver studiato, bisogna applicare, e anche qui c'è un altro scoglio. Cioè, sembrano dei punti banali, ma se ci pensate, prova a pensare anche all'ultimo corso che hai acquistato, tutti i corsi che hai acquistato. Hai fatto tutti questi passaggi? Anch'io, ripeto, non sono immune da tutto questo. Mi è capitato di acquistare corsi e non studiarli, oppure di studiarli e poi non applicarli. Oppure, a volte, rileggo dei libri che ho letto magari anni fa, due, tre anni fa, rileggo dei concetti e dico, cavolo, questo concetto l'avevo letto tre anni fa, ma poi non l'ho mai applicato. E spesso mi capita di dover rileggere o riascoltare per quattro o cinque volte un concetto prima di andare ad applicarlo. E questo è normale, capita, siamo umani, però è importante capire che bisogna andare ad applicare quello che si studia se si vogliono vedere dei risultati. Qui, Fabio, qua c'è il concetto della drasticità. lo chiamo così, nel senso che è una cosa che ho imparato da Fabio perché dovete capire che lui è una cosa fuori da normale. Cioè, come produttività, diciamo, quello che Fabio fa in un'ora una persona la fa in otto, dodici ore di lavoro. A parte questo, ha una capacità di sintesi mentale assurda. Cioè, lui prende le cose che gli succedono nella vita e in un secondo ti fa una sintesi e ti dice quello che hai imparato. La verità è questa. Ok. E l'altra cosa che ho imparato è la drasticità. Nel senso che lui, io questo lo sto imparando da lui e i lavorandici insieme ogni giorno l'ho migliorato anch'io, metti in pratica, metti in pratica subito. Noi compriamo continuamente dei corsi, ve lo diciamo sempre. Abbiamo comprato anche questo mese il nostro corso, vede delle cose, ok, c'è da fare una landing page fatta in una certa maniera, la mette giù e la fa nel giro di un giorno. Ok. Magari ci vorrebbero settimane per programmare, farsela fare bene. Ok. Piuttosto di niente è meglio piuttosto. Non serve essere geni perché, sì, Fabio è bravino, però... No, allora, adesso non vorrei fare chi suona il violino all'altro, però come produttività secondo me è meglio Luca. però voglio una volta di ego metto il commento di Nadia e quindi questo la chiude tutto. Non lo so come faccia a dirlo Nadia. No, comunque, a parte questo, no, no, c'è stato più di uno, non sono solo io a dirlo, qualcuno di importante ha detto che è ancora Fabio, un diamante allo stato grezzo, cioè non è ancora esploso, ok? voi lo vedete qui ma vedrete che... Vabbè, a parte questo, la drasticità che ha nell'applicare le cose, cioè lui te le fa, te le fa, voi dovete prendere e applicare, studiate qualcosa, quello che vi diciamo stasera, stasera dovete iniziare a fare subito, cioè mi ha permesso di licenziarmi nel giro di due giorni, mi sono licenziato e ho iniziato a lavorare con lui. Se non avessi avuto questa drasticità nel fare le cose, sarei ancora là perché tanta gente aspetta il momento perfetto che tutto si allinei perfettamente, cosa che non succede mai. Esatto, questo esattamente tu l'hai fatto anche più volte, cioè noi portiamo anche le nostre esperienze dirette, no? Perché altrimenti è facile parlare degli altri, però l'importante è aver fatto prima quello che si predica e quindi anche anche Luca appena ha visto l'opportunità prima ancora di iniziare a collaborare con me aveva già deciso di licenziarsi dal suo lavoro a tempo indeterminato appena ha avuto l'opportunità di lavorare per 50 euro con un'agenzia web e questa è stata proprio la drasticità di cui parla quindi il saper prendere il treno è drastico. Invece vediamo molti che mi piacerebbe sì lo vorrei ma ora no quindi non significa prendere delle scelte non ponderate ok? Significa comunque ponderare però sapere anche rischiare ma rischiare diciamo quando comunque sappiamo che abbiamo la probabilità dalla nostra parte e che quello che andiamo a fare ci rende sereni ci rende felici sì poi c'è sempre chiaramente un periodo io lasciamo un tempo indeterminato con un signor stipendio e con famiglia mutuo e due figlie ok? verso l'ignoto però è vero anche che ho fatto il mio periodo di preparazione questo quindi periodo in cui metti via le risorse metti via un po' di soldini periodo in cui studi periodo in cui lavori la sera dopo il lavoro normale tutte queste cose fanno sì che fai questo passo con coscienza esatto quindi Nadia mettere subito in alto passare l'azione ma passare l'azione appunto non significa io guardo di qua perché ho lo schermo di qua provo a guardare dritto non significa prendere un colpo di matto e oggi voglio fare questo e lo faccio bisogna pianificare e quindi andare a capire prima di tutto quindi punto numero uno studiare e applicare passo dopo passo prima di lanciarsi bisogna essere pronti non bisogna improvvisare provare a iniziare esatto provare a iniziare iniziare da un piccolo step il primo step è sempre il più difficile da fare stavo infatti stavo parlando anche l'altro giorno con con un collega con un collaboratore stavamo pensando abbiamo un'idea di fare un corso su un nuovo corso ok non sveglio non sveglio niente e ho detto facciamo lo step più difficile mettiamoci lì e creiamo la struttura creiamo l'indice del corso una volta fatto quello ok hai iniziato a camminare e già la discesa inizia perché hai già preso un impegno con te stesso e la prima barriera è stata abbattuta e quindi iniziare è lo step più difficile ma quello che poi ti permette di poter continuare quindi capire studiare applicare se avete domande ovviamente fatele pure poi adesso arriviamo subito a spiegare poi quello che ci sarà nella piattaforma face to face anche perché ci dite dove siete in questa scala che è più o meno in ovvio infine è importante si applicare ma è ancora più importante applicare insieme a chi ha esperienza in quel campo quindi farsi affiancare perché questo ci permette di risparmiare tanto tempo e anche soldi a volte perché si possono evitare degli errori già fatti da qualcuno che ha esperienza appunto in quel campo questo appunto è anche l'esempio di Luca che si è fatto affiancare inizialmente da me e quindi con l'affiancamento ha evitato ha fatto veramente dei passi da gigante perché non doveva pagare sulla sua pelle tutti gli eventuali errori ma siccome li avevo già pagati io li facevo risparmiare e quindi ha potuto migliorare in sei mesi diventare praticamente da zero a pro professionista già tra diciamo il 10% dei professionisti del pay per click in Italia questo proprio perché c'è stata un'accelerazione grazie all'affiancamento e quindi questo penso che sia un quarto punto molto importante quando si parla di di creare di studiare di applicare quindi di formarsi e di vedere poi i risultati della propria formazione non fermarsi al ok ho studiato ho appreso le nozioni però non le ho mai applicate non ho mai raggiunto i risultati perché altrimenti si rischia a volte non so se vi capita quando andate nei vari corsi capita di vedere sempre le stesse persone che vanno dal corso di uno dell'altro dell'altro e dici ma questi quando applicano quindi per evitare di entrare in questa spirale di frequentatori di corsi professionisti bisogna iniziare ad applicare e a farsi affiancare appunto per avere un acceleratore sì 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 e poi il concetto di prossimità cioè voi proprio come è successo a me stando vicino a qualcuno si ha una sinergia e imparate molte cose no? nel nostro caso abbiamo iniziato a lavorare insieme chiaramente Fabio mi ha affiancato sono cresciuto tantissimo ma nello stesso tempo noi affianchiamo decine di imprenditori e anche se li aiutiamo anche loro aiutano noi perché in un certo senso facciamo esperienze in tutti i loro campi noi abbiamo fatto esperienze praticamente in qualsiasi settore allo stesso tempo abbiamo lavorato con importanti formatori e da loro abbiamo imparto tantissimo sono nostri clienti ma nello stesso tempo affiancandoli lavorando insieme impari tantissimo quindi avere la possibilità di essere affiancato a lavorare vicino a Fabio soprattutto come adesso con la piattaforma uno a uno cioè veramente puoi imparare tantissimo c'è da dire una cosa magari se questa cosa dell'affiancamento Fabio non so come metterla dentro però buttarla lì noi affianchiamo anche delle aziende a volte hanno dei ragazzi dentro che fanno le campagne noi arriviamo e li aiutiamo a fare bene le campagne ok loro è un'azienda allo specialista interno che fa campagne arriviamo io e Fabio prendiamo questo specialista lo mettiamo in una videochiamata come questa e iniziamo a dirgli ok fammi vedere che cosa hai fatto lo vediamo e poi partiamo e iniziamo no qui non va qui non va qui non va qui sposta qui qui fallo così hai installato il tag no ok installa il tag manager fa questo alla fine della chiamata gli diamo talmente tanto valore talmente tante informazioni che è successo due volte se ne siano andati nel senso che sono comunque cioè il valore che diamo l'experimenti è talmente tanto che se non è tua l'azienda non lo sostieni quindi è veramente l'affiancamento anche in un solo ora può passare tutte le informazioni che tu dovresti cercare per magari un anno sul web per applicarle quindi anche questa è la potenza poi l'affiancamento vediamo insieme alcune cose e diamo dei compiti per casa diciamo che possono coprire diverse ore di lavoro operativo dopo tendenzialmente insomma al professionista di applicare poi tutto quello che diciamo in un'ora di consulenza bravissima Laura che intanto ha comprato il green screen ti è arrivato il tessuto verde perché il green screen non c'è è arrivato in Madagascar ti è arrivato il volo internazionale secondo me dovresti valutare anche di utilizzare la tua ambientazione naturale perché può essere molto bella vedi Fabio è una bella ambientazione io ho deciso invece di avere uno sfondo neutro nel tuo caso magari è un bel posto potresti anche distinguerti per quella magari qualche animale selvatico che passa dietro saresti distintiva sai cosa comunque a parte una cosa quando fate questi contenuti video e live cercate sempre di trovare una cosa che vi sia comoda comunque non che dobbiate magari decidete di farvi vedere in giacca e cravatta tirate ogni volta con una luce di fianco e lo sfondo grigio e ogni volta che dovete fare questa cosa dovete farla in maniera artificiosa ci mettete un casino considerate se dovete farla quindi deve essere una cosa sostenibile dovete essere voi stessi noi siamo così io qui davanti è la mia scrivania e lo faccio tranquillamente questo è il mio salone di casa però adesso perché Fabio continua a cambiare sì esatto è la casa di dove sono ora ok non puoi farle dirette in giro perché non c'è la connessione fai video e poi li carichi sì comunque è importante questo perché altrimenti se avete troppo se costruite troppo il vostro ambiente quando fate il video poi non vi è vi passa la voglia di farlo quando avete l'ispirazione per farlo però questo non è tema di di questa diretta vedete poi come possiamo divagare su tutto quindi il capire studiare applicare farsi affiancare penso siano noi pensiamo siano diciamo il processo da seguire per riuscire a integrare teorie e pratiche per raggiungere gli obiettivi di business per questo proprio pensando a questo quindi abbiamo pensato ma a cosa manca a quelli che ci stanno contattando ok manca hanno studiato magari ma manca l'applicazione e il farsi affiancare quindi abbiamo pensato per questo proprio a face to face quindi faccia a faccia si chiama così proprio perché è un programma che prevede degli incontri faccia a faccia con con noi o con i nostri i nostri coach vediamo se riesco a metterlo un po' più grande così ok lasciamo Luca e dovreste continuare a sentirmi quindi ho inserito nei commenti il link per candidarsi gratuitamente senza impegno e solo per dimostrare che vi può interessare questo programma ci si può candidare fino a domani sera e dopo di che quindi domani sera invieremo o sabato mattina avremo tutte le informazioni per poter iscriversi quindi indichiamo i prezzi e tutto quanto a quel punto potete decidere se iscrivervi o meno ora potete candidarvi senza nessun nessun problema quindi informati e lanci la tua idea online grazie a face to face il programma definitivo per promuovere e far sviluppare il tuo business online cosa comprende? come sapete noi abbiamo realizzato negli ultimi anni diversi corsi quattro in particolare che sono questi quindi intanto il programma vedrà sarà diciamo ci si potrà abbonare di sei mesi in sei mesi quindi nei primi sei mesi vi verranno sbloccati due di questi corsi in particolare local business revolution e pay per click per imprenditori che sono i due corsi fondamentali per iniziare quindi abbiamo creato proprio un diciamo un percorso logico per questo facciamo iniziare tutti con l'accesso al local business revolution che è questo in cui quindi per chi ha un'attività locale vuole imparare a sfruttare il web per creare la propria presenza online e generare più contatti e vendite attraverso le piattaforme google my business e facebook quindi è la presenza basica online che deve avere la tua azienda sia che sia un'azienda locale che sia un'azienda che vende in tutta Italia o che vende solamente online quindi è fondamentale questo questo primo step dopodiché verrà sbloccato l'intero corso pay per click per imprenditori solo questo corso costa 990 euro e questo è il corso diciamo più completo in cui io spiego operativamente quindi non teoricamente ma operativamente spiego il mio lavoro cioè spesso mi capita di dire ai clienti non pagarmi un tot al mese magari noi oggi i nostri servizi possono andare dai 1000 ai 2500 al mese per gestire le campagne di un'azienda e dico non pagarmi ma impara a fare il mio lavoro e quindi con solo 990 euro uno si può apprendere appunto una nuova competenza può prendere completamente un lavoro e chiaramente qui lo studia poi bisogna applicarlo e farsi affiancare quindi non sto dicendo che solo con il corso si apprende il lavoro ma in realtà qui durante il corso durante le lezioni del corso c'è la registrazione del mio schermo e quindi si vede poi anche l'applicazione come se si applicasse anche la teoria quindi per chi vuole imparare le basi tecniche avanzate per la creazione e la gestione di campagne di marketing online attraverso le piattaforme facebook instagram google e youtube ok quindi corso completo su come creare e ottimizzare una strategia e operativamente come creare e ottimizzare le campagne pay per click in google instagram youtube e google l'altro giorno per chi ha già l'accesso al corso molti mi hanno chiesto di creare una una lezione su come creare le campagne in whatsapp e quindi ho creato una nuova lezione e l'ho caricata quindi questo corso ogni tanto lo aggiorno anche con nuove con le ultime novità quindi questo per i primi sei mesi poi per chi rimane gli altri sei mesi avrà sbloccati gli altri due corsi che sono remote project management che è il corso registrato da luca se vuoi descriverlo sì abbiamo pensato che nei primi sei mesi dovete avere le basi per creare le prime campagne e quindi iniziare a monetizzare online ok dopodiché abbiamo pensato dopo sei mesi c'è un secondo scatto e potete se volete rimanere con noi ok scegliere di prendere la strada del libro professionista quindi con fatti valere o dell'azienda strutturata quindi con remote project management allora lì è un corso dove insegniamo a gestire un'azienda completamente in remoto come facciamo noi quindi se con PPC per PMI imparate a fare le campagne con questo imparate anche a creare un'azienda ok deriva dai miei studi partendo dall'università per poi passare quando ho fatto ingegneria gestionaria fino a poi quando ho fatto tutti i corsi di project management io sono stato project manager in azienda fino a che mi sono licenziato perché ho capito che il mondo stava andando in un'altra direzione nel 2017 il mondo stava prendendo la direzione del lavoro remoto ok infatti nel 2020 appena c'è stato il problema del covid tutti in remoto perfetto per gestire tutte queste risorse in remoto c'è bisogno di una figura specializzata il remote project manager che comunque può farlo anche l'imprenditore che deve gestire il suo team di lavoro in remoto io e Fabio lavoriamo in remoto i nostri clienti dovrebbero imparare a gestire un team remoto per questo ho creato il corso dove spiego tutte le metodologie come la metodologia agile dentro è spiegato come funziona la metodologia ti spiega un processo per gestire le attività poi ci sono tutti gli strumenti che utilizziamo noi come utilizzarli e poi c'è tutto un discorso di mentalità per gestire un team di lavoro che poi è quello che fa la differenza perché qui non sei più con il fiato sul collo delle persone che le vedi ogni giorno le controlli sono in remoto quindi come fai a controllare il team tenerlo affiatato ottenere risultati con la giusta mentalità per questo ho confezionato questo corso adesso ne stanno parlando in parecchi perché mi hanno ripreso in diversi articoli e sto preparando un articolo per un giornale che credo di non poter dire mi hanno chiesto di scrivere un articolo per un giornale molto importante vedrete che uscirà nei prossimi giorni o qualche settimana dove vado a spiegare che cos'è questa figura perché fino adesso non se ne è parlato in Italia cioè è assurdo hanno messo a casa milioni di persone a lavorare così senza nessuna regola ok quindi nessuno sa che cos'è il remote project management per gestire il lavoro da remoto bisogna avere delle basi importanti quindi ho creato questo corso e chi vorrà dopo sei mesi può scegliere di imbroccare questa strada aziendale oppure prende l'altra strada del libero professionista decide di restare da solo in proprio promuoversi online aumentare però i propri margini io penso che Fabio sia uno dei professionisti più pagati qui in Italia quindi qualcosa da insegnare ce l'ha cosa dici Fabio? sì allora infatti tutti i corsi che facciamo vediamo se risbuco fuori tutti i corsi che facciamo sono dati cioè li facciamo dopo aver fatto esperienza ed aver ottenuto risultati da queste strategie ok quindi poi diciamo ok perché non insegnarle anche ad altri quello che insegno infatti è proprio come ho fatto a partire da zero nel 2016 ed arrivare ad avere clienti sempre più importanti a soddisfare questi clienti quindi qual è l'approccio corretto per soddisfarli come definire poi le tariffe corrette e come aumentare sempre di più le proprie tariffe come promuoversi online come farsi trovare eccetera quindi fino ad arrivare ad oggi in cui abbiamo creato la nostra azienda abbiamo diversi collaboratori che lavorano con noi e quindi questo mi ha permesso anche tra l'altro la cosa che mi fa più felice è che posso scegliere di lavorare da dove voglio e questa cosa questa è una cosa che cercherò di non perdere il più tempo possibile ed è la cosa che mi dà più soddisfazioni al di là delle soddisfazioni economiche questa è la libertà più grande quindi conquistare la propria libertà libertà di poter vivere dove voglio libertà di poter lavorare con chi voglio e quando voglio quindi gestire in autonomia la mia giornata lavorativa spiego tutto questo infatti valere che quindi è un corso ideale per chi vorrebbe mettersi in proprio cioè se io nel 2016 quando lavoravo ancora in agenzia e sognavo veramente di mettermi in proprio avrei lavorato gratis avrei lavorato gratis per sei mesi un anno pur di poter lavorare affiancato da qualcuno che mi insegnasse un lavoro che posso fare che potessi fare da dove voglio ok e se in quel momento avessi trovato un corso come questo oppure anche il libro un libro come il mio sognavo la libertà che ho scritto sarebbe stato veramente il percorso ideale il corso ideale il libro ideale per darmi quella spinta decisiva inoltre è anche ideale per chi oggi è già un libro professionista magari lavora online come freelance e vuole capire come ottenere di più quindi anche questo corso è appunto dopo i sei mesi si potrà sbloccare remote project management o fatti valere e dopo un anno si sbloccherà l'altro quindi comunque in 12 mesi si avranno a disposizione tutti questi corsi che hanno un valore solo questi di 3630 euro potete vedere le pagine di vendita dei vari corsi addizione e questo è il valore quindi tutti questi corsi saranno compresi in face to face perché si iscrive a face to face quindi saranno gratuiti all'interno della piattaforma ma i giochi cosa manca questo è il studiare l'applicare manca là l'affiancamento quindi abbiamo pensato di inserire anche una consulenza di affiancamento al mese con un coach specializzato di performance pc quindi o saremo io o sarà Luca o sarà un altro dei nostri collaboratori con una consulenza di affiancamento al mese qual è l'obiettivo di questa consulenza di affiancamento è fare in modo che vengano applicate tutte le nozioni in come ho detto prima senza senza errori e evitando di sprecare tempo e budget quindi una consulenza di affiancamento per sei mesi inizialmente al mese quindi una al mese in caso qualcuno abbia particolare urgenza si possono ottenere al massimo due quindi si può abbreviare il percorso a due consulenze al mese quindi abbreviando a tre mesi inoltre c'è anche il supporto diretto costante sempre sempre attivo nella piattaforma cioè in ogni lezione sotto ogni lezione c'è un form una chat diciamo nella quale si può scrivere e chiedere a noi direttamente a me e a Luca delle spiegazioni o se si hanno dei dubbi su qualsiasi tema relativo alle campagne pay per click o al remote project management oppure a come crescere come libro professionista online si può andare a commentare e ricevere una risposta direttamente da noi quindi c'è un supporto costante sia nella piattaforma direttamente quindi via chat via messaggio sia poi con una consulenza face to face quindi faccia a faccia al mese quindi di una consulenza di affiancamento aggiungo che c'è anche c'è un'altra cosa ancora siccome le chat sono pubbliche cioè tutti vedono quello che avete chiesto e quello che rispondiamo e questo va bene va benissimo perché così aiutiamo più persone con una risposta però c'è anche un sistema ticket quindi potete aprire gratuitamente tutti i ticket che volete ci arriva la vostra domanda via email praticamente è tutto nella piattaforma è facilissimo da accedere ed è una domanda con risposta privata da parte di me e Fabio quindi potete dire ok sono incasinato nel in questa su come creare la conversione in facebook per la mia campagna come posso fare io e Fabio ti rispondiamo in privato sull'email direttamente oppure ti diciamo vatti a vedere quella specifica lezione del corso quindi credo che anche questa sia un gran valore aggiunto ma più di tutti è la consulenza diretta cioè vi dico a noi porta via tempo perché dobbiamo metterci lì nessuno offre una cosa del genere cioè uno a uno ripeto non siamo in un'aula con altre persone che fanno no è una cosa privata quindi potete tirar fuori tutte le vostre questioni più private la proviamo ragazzi vediamo come va perché se diventa troppo impegnativo per noi potremmo chiudere le porte però chi entra adesso ha questa possibilità ed è molto vantaggiosa potete fare una richiesta di preventivo fuori da questa piattaforma per una consulenza al mese se si dovesse fare un pacchetto di questo tipo sarebbero circa 4.000 euro solo di una consulenza al mese quindi un affiancamento costante perché abbiamo fatto questa piattaforma perché questo programma diciamo proprio per cercare di aiutare più persone ma che magari avevano meno budget inizialmente che hanno meno budget però ci siamo sempre detti sì ma non possiamo aiutare tutti perché il nostro tempo è limitato quindi come possiamo cercare di automatizzare il tutto abbiamo pensato a questo che quindi con il sistema di ticket quindi voi scrivete nella piattaforma e ci arriva la mail lì possiamo gestirla in modo più sostenibile anche per noi quindi poi una consulenza già prefissata mensile l'accesso ai corsi così siete già autonomi su tutta quella che è la parte operativa e poi se avete dei dubbi avete la possibilità di farci le domande in diretta quindi in in una consulenza diretta e tutto questo ci aiuta un po' a automatizzare alcune fasi del processo e quindi di poter dare la possibilità di accedere anche a un prezzo più ridotto e a più persone infine infine il terzo il terzo punto è l'accesso al gruppo l'accesso al gruppo fuori dal funnel che è il gruppo privato in cui diamo indicazioni diamo i consigli quelli anche i consigli che non si possono dare pubblicamente al di fuori e che è il nostro antidoto diciamo contro chi vi vuole un po' fregare nel marketing online quindi vi sveliamo alcuni alcuni termini che un po' fumosi che utilizzano magari alcune agenzie per evitare di 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 farvi fregare diciamo così è un po' quindi è il nostro antidoto sto cercando di pesare le parole no fuori dal funnel è un gruppo facebook privato adesso conta circa 210 membri ci sono 20 persone che hanno richiesto di entrare sono ancora in attesa perché selezioniamo molto il pubblico chi accede a face to face entra per diritto lì perché selezioniamo perché vogliamo appunto un gruppo compatto coerente e che sia allineato con i nostri principi è nato perché io e Fabio abbiamo visto veramente troppe volte delle cose che non andavano nel nostro settore e se vedrete il primo video di presentazione di questo gruppo che è proprio dentro il gruppo lì diciamo già delle cose molto rilevanti e abbiamo voluto con il gruppo svelare delle cose che svelate pubblicamente fuori dal gruppo avrebbero potuto creare dei casini diciamo così ok quindi lì siamo in un ambiente protetto diciamo la verità le cose come stanno chi è con noi si salva gli altri devono chiederci gli altri vanno in pasto a quello che trovano fuori infatti come detto quando appena entrate se appunto avete le qualifiche per entrare perché il gruppo è comunque aperto a chi ha i requisiti per entrare quindi iscrivendosi a face to face avete i requisiti e potete entrare potete vedere subito il primo video in cui sveliamo alcune cose che che vi possono portare molti benefici vi possono dare veramente l'antidoto che vi protegge da da chi vi vuole vendere un po' di po' di fuffa online e poi lì c'è tutta la community quindi potete interagire con gli altri quindi potete far domande e tutti ci sono i nostri collaboratori a proposito di interazione anche con gli altri abbiamo in mente un quarto punto per per face to face ma che teniamo un po' in attesa vediamo se riusciamo a implementarlo per i prossimi mesi sarebbe comunque appunto una sorpresa comunque inclusa in tutto questo e vediamo se riusciamo a implementare anche questo sì ragazzi è una cosa nuova la stiamo testando anche noi il prezzo è rimasto clamorosamente basso lo scoprirete domani quanto è tra un giorno per chi si candida dovete candidarvi dalla pagina questa è la pagina e è molto basso del valore che vedete tra corsi e consulenze talmente basso che ci abbiamo pensato però alla fine ok partiamo vediamo come va vediamo se vi piace se vi piacerà e quindi se Fabio non hai altro da aggiungere io dico che c'è una cosa fai vedere pure la pagina questa è la pagina potete candidarvi da qui come vedete le candidature chiudono tra un giorno 5 ore e 37 minuti quindi domani sera potete candidarvi tranquillamente gratuitamente siete curiosi volete solamente provare ad avere qualche informazione in più come vedete valore dei corsi 3.600 euro valore delle 12 consulenze 4.800 euro e accesso al gruppo qui vedete tutto nel dettaglio anche la descrizione di quello che è la piattaforma vedete un po' di testimonianze se ci sono alcune testimonianze e qui sotto potete inserire nome cognome email e telefono per accedere no per accedere per candidarsi a a questo quindi per richiedere poi maggiori informazioni che vi saranno fornite domani sera anzi sabato mattina esatto ok io credo che questo sarà fatele pure qui sì io credo che sarà il primo passo e non so se ce ne saranno altri su questo fronte perché di solito lavoriamo già con realtà avviate però ripeto se iniziate questo percorso da zero abbiamo fatto un po' di dirette ultimamente su come iniziare da zero quindi abbiamo voluto proporre una possibilità se iniziate da zero poi magari crescendo possiamo collaborare poi ai livelli più alti comunque qui avete dei contenuti assolutamente d'eccezione perché quel corso di che si perpene da solo vale tutto perché insegna il nostro lavoro è quello che ho usato io per imparare a fare le campagne quello che studiano tutti i nostri collaboratori per fare le campagne con noi e penso che potete insomma vedere le testimonianze del valore che ha che altro dire sai Fabio io stasera ho un compleanno ma compi gli anni stella è la bambina più piccola compi tre anni quindi stasera adesso vi chiamo adesso non vi dispiace ragazzi adesso vi chiamo che la vedo ah è vero è vero si fa bene adesso allo zio che video chiama il zio virtuale cosa fate andiamo a casa della mamma di mia moglie e una tortina lì quindi adesso devo correre vado là e poi vi chiamiamo quindi vi lasciamo se avete domande potete scrivere anche a vedete che lo metto qui facciamo così info chiocciola performance meno ppc mi trattino ppc punto com ovviamente si vede male non si sa perché e ve lo inserisco qui questa è la mail se avete domande auguri grazie grazie a Mariana che fa gli auguri a Stella Davide Davide dice bellissima idea del gruppo privato con i trucchi del mestiere allora ti dico una cosa tutti i trucchi non è che esistono trucchi ma sono smascheriamo i trucchi degli altri è questo che i trucchi i trucchi degli altri non sono tanto trucchi diciamo tecnici sono più trucchi sul lessico su come definiscono alcune cose per che magari intendono qualcos'altro diciamo proprio per aggirare un po' usano molto le parole inglesi per aggirare per aggirare la realtà fanno pagare delle cose che non vi portano risultati siccome noi siamo abbastanza comunque focalizzati sui risultati che non vuol dire che siano garantiti con noi però noi possiamo garantirvi che facciamo le migliori campagne possibili e poi dipende anche dal prodotto chiaramente dal mercato però ci sono altri che proprio se ne fregano minimamente dei vostri risultati e o fanno delle cose che non vanno fatte che vi fanno sembrare vi mettono fumo negli occhi vi fanno sembrare che le cose vadano in una certa maniera quando invece non sta succedendo assolutamente niente quindi svegliamo un po' alziamo il lenzuolo e svegliamo gli skate nell'armadio degli altri armadio aspetta Giovanni non c'è la diretta alle 21 l'email era sbagliata cioè nella prima parte dell'email c'era scritto alle 18 dopo è stato un errore è stato scritto alle 21 la diretta era questa comunque la potete vedere alle 21 quindi riavviarla alle 21 se vuoi no chi arriva alle 21 vedrà la registrazione esatto sì no purtroppo sì c'è stato un errore era alle 18 Giovanni Granata sì è arrivata la tua candidatura stavo guardando adesso la lista ok siete siete un bel numerino siamo al 50% diciamo dei possibili posti che abbiamo a disposizione sì forse anche di più del 50 perché mi sa che non ce la facciamo fare quel 100% non lo so comunque siete un 50 dell'idea che avevamo 50% pieno quindi condividete questa diretta questo video mi raccomando se pensate che possa servire a vostri amici e persone e condividete il link della landing page quindi se ci aiutate su questo noi vi aiutiamo nelle vostre cose vi portiamo condividete pure anche a chi potrebbe essere interessato perché è veramente un programma che ci stiamo pensando e abbiamo pensato molto se farlo o no e dai proviamo e vediamo come va ragazzi buona serata a tutti ci aggiorniamo ciao buona serata ciao 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 ciao